Namaste, io sono Ace Brave, benvenuti ad un altro video di aggiornamento in cui parlo un pochino di cosa sta succedendo sul canale eccetera 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 tra l'altro anche questo background qui non è casuale, adesso vi spiego un po' alcune novità che ho da dirvi allora iniziamo con il setup, il mio computer non è ancora organizzato come si deve sto facendo dei preventivi per vedere di prendere qualche pezzo aggiuntivo ad esempio il case, ho trovato un'offerta per prendere un case un po' più grande dove poter mettere alcuni degli elementi che mi sono portato dall'Australia e unirli al computer invece che avevo già precedentemente qua quindi fare un mesh di tutto quanto e probabilmente dovrò prendere una scheda madre nuova, un processore nuovo e probabilmente dovrò fare un upgrade dall'alimentatore scheda video ce l'ho, RAM ce l'ho, hard disk ne ho un macello e probabilmente dovrò usarli tutti e quindi è un po' di lavoro, tempo eccetera eccetera con il trasloco che sta anche per avvenire è una cosa da prendere un po' con le pinze, un po' alla volta ho avuto però tempo di dare un'occhiata ad alcune cose e prima notizia brutta che però cercherò di volgere al bello è The Banner Saga che andrò a scrivere in diretta così non mi dimentico Banner Saga 2 è stato tradotto dai ragazzi di CreaDiPiù, molto bella la traduzione ho potuto sperimentarla ma se vi ricordate Banner Saga 2 ha una bellissima caratteristica che è quella di poter importare i salvataggi dal 1 problema che di tutte le cose che ho portato in Australia l'unico file nascosto che è proprio il salvataggio di The Banner Saga 1 me lo sono perso ho portato tutto praticamente tranne quel pezzo che è praticamente la cartella app data roaming che non riesco a trovare l'ho cercata ovunque nei miei hard disk e non ce l'ho perché effettivamente quando ho venduto i pezzi rimanenti del computer vecchio era dentro l'unico hard disk che ho venduto insieme a tutto il resto e quindi ci siamo persi il salvataggio di The Banner Saga 1 volgendolo al positivo vuol dire che faremo un'altra serie di Banner Saga 1 probabilmente sì perché ci sono alcune cose di Banner Saga 1 che non vi ho mostrato che mi piacerebbe mostrarvi quindi probabilmente reinizierò la serie di The Banner Saga 1 e 2 molto più approfondita con veramente tutte le sfaccettature in modo da potervi raccontare la storia ancora più completa quindi volgiamo al positivo una notizia purtroppo negativa per noi un'altra cosa a proposito di salvataggi invece Darkest Dungeon è stato recuperato il che vuol dire che posso anche iniziarlo a riprendere probabilmente vi metterò a registrare dopo aver finito questo video qua qualcosina di nuovo di Darkest Dungeon quindi aspettatevi qualche episodio nuovo di quella serie lì proprio perché molti di voi hanno partecipato con il loro nome c'è ancora un sacco di spazio per tanta altra gente quindi vi consiglio di andare a vedervela e se non avete visto gli altri episodi di andare a recuperarvi la playlist lo dirò sempre le playlist sono molto importanti e il sito rispecchierà questa cosa ve lo assicuro il sito che sta continuando ad andare avanti con non poche difficoltà ma procede procede molto bene sono molto contento e tra un po' comincerete a vedere anche quello che è il documentario quei video corti che vi dicevo che servono a definire quella che è l'enciclopedia dei videogiochi del canale che è una cosa molto molto interessante secondo me e che non molti di voi mi hanno già detto che non vedono l'ora di darci un'occhiata poi che cosa abbiamo abbiamo XCOM la lunga guerra che ho trovato i suoi vantaggi ho tutto a posto l'unica cosa è devo praticamente il computer non ce la fa a vedere a vedere il gioco quindi questo avrà bisogno sicuramente di un upgrade quindi quello è ancora fermo così come ferme sono le altre serie anche se ho tutti i salvataggi però qualcosina potrei magari ricoperarlo poi abbiamo Magic Duel che posso continuare anche subito in realtà posso farlo però probabilmente le registrerò le rilascerò con tempo perché vedo che tanti di voi non seguono più i video proprio perché dicono ma è sempre un gioco di carte infatti effettivamente è un po' piena ci sono gli episodi di Hearthstone a proposito di giochi di carte ce ne sono ancora quattro che ho registrato e devo pubblicare fondamentalmente 17, 18, 19, 20 e 21 sono cinque episodi in realtà che ho messo sul canale devo solo programmare la produzione quindi quello avrete del materiale aggiuntivo e inoltre un po' come vedete anche qua ci sono tutte quelle ROM chiamiamole ROM che voglio fare una sicuramente è Fire Emblem 7 per la precisione il primo Fire Emblem che è uscito in Europa è forse uno dei pochi tradotto in italiano quello sicuramente lo vedrete probabilmente lo inizierò a giocare e così come probabilmente Advance Wars aspetto a farlo magari farò Advance Wars 2 però non credo perché non mi piace tanto fare il gioco successivo al precedente mentre Fire Emblem 7 è una storia tutta a 6 in realtà c'è Fire Emblem 6 che è il sequel del 7 mentre il 7 è il prequel del 6 quindi sono invertiti però giocare prima al 7 e poi al 6 mi sembra molto molto interessante come cosa invece da quello che potete vedere da qui molto probabilmente farò Link to the Past che è un signor Zelda forse è il miglior Zelda 2D che sia mai stato fatto molto molto bello molti lo conoscono adesso perché è uscito da poco relativamente poco è Link Between Worlds che è il seguito effettivo di questo gioco che è abbastanza vecchio ma è un gioco che io ho adorato e probabilmente vedrete forse ancora prima di Fire Emblem 7 perché sicuramente è un po' più corto c'è meno strategia diciamo così e lo conosco anche molto bene rispetto a Fire Emblem 7 che lo conosco bene ma c'ho qualcosina in ballo con quello devo vedere probabilmente lo giocherò e lo ridoppierò in seguito è una cosa che voglio cercare di fare con un pochino di più calma un'altra cosa invece che voglio a proposito di ROM eccetera è che sono riuscito a far partire Killer7 Killer7 è un gioco per Playstation 2 che è stato fatto per Playstation 2 e anche per Gamecube se non mi ricordo male Killer7 è un gioco fantastico che voglio portare sul canale prima o poi e quindi lo vedrete è un gioco forse fuori dalle mie corde ma in realtà è uno dei miei giochi preferiti di sempre e con una storia molto 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 complicata e volevo cercare di portarlo al grande pubblico in realtà perché molti lo conoscono ma visto che è solo in inglese molta parte della storia è un po' persa nelle vie anche perché è una storia tenete conto che è stata fatta da Sudagoichi Sudha51 che fondamentalmente è un giapponese che fa delle cose fuori di testa e Killer7 è un gioco veramente fuori di testa dal punto di vista della complicazione della storia eccetera però se questo canale vuole raccontare storie forse Killer7 potrebbe essere anche una delle occasioni mi avete suggerito una marea di giochi come sempre e sapete che io ho una marea veramente una marea di giochi ho una lista che supera i 500 giochi da fare praticamente tra cose che mi avete consigliato eccetera 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 e cerco di fare il possibile per portare qualcosina avanti molto probabilmente allora le cose che vedrete presto sul canale sono ancora un pochino di Magic Duels ancora un pochino di Hearthstone ancora un pochino di Darkest Dungeon che cerco di continuare e portare a termine qualcosa mentre dal punto di vista delle ROM probabilmente inizierò Link to the Past proprio adesso in modo da poterlo registrare qualcosina e avrete qualcosina dal punto di vista delle ROM dei giochi emulati chiamiamo così c'è ancora veramente veramente tanto da fare però cerco di metterci il massimo per portare avanti il canale fondamentalmente perché mi piace sono sempre appassionato di queste cose e cerco di fare il possibile per mettere tutto a posto soprattutto sapendo che voi siete sempre là vogliosi di tante belle cose City of Skyline e tutte quante invece le altre serie che per adesso sono in stand by perché non ho la possibilità di registrare City of Skyline è impossibile per me da registrare molto probabilmente però ci lavorerò dietro le quinte per progettare qualcosa di veramente figo perché stanno uscendo anche ultimamente delle serie veramente fighe di altri canali che ho anche contattato per cercare di avere qualche informazione in più insomma vedere cosa cosa si riesce a fare perché sarebbe molto molto interessante portarlo avanti in qualche maniera non vi non vi svelo ancora niente di che comunque c'è tanta tanta ispirazione perché sapete sapete che City of Skyline forse uno dei miei giochi preferiti perché sono sempre stato appassionato di SimCity e City of Skyline è veramente il degno successore della serie pur non essendo EA non essendo Maxis che altro dire sono molto contento comunque della situazione il lavoro procede il sito procede è una cosa molto importante e il vostro supporto procede che è sempre molto ma molto ma molto ma molto importante sto cercando di fare il possibile quindi so che qualcuno ha riesumato il Patreon che è una cosa molto bella che però ho completamente lasciato in pace fondamentalmente perché ho degli altri tipi di interessi in questo momento cioè fare il canale piuttosto che realizzare il Patreon che non so bene quali sarebbero state le cose in più da mettere su quel Patreon però che dirvi se avete possibilità di supportarmi di aiutarmi in qualunque maniera scrivetemi oppure sotto nei commenti e fatemi un sacco di domande che sono sempre molto molto contento di potervi rispondere e poter continuare con questa piccola community questo piccolo angolo di community di persone che mi seguono ci vediamo quindi al prossimo aggiornamento probabilmente con un nuovo video let's play e come al solito io sono Ace Brave Namaste and be brave